Sono Francesco Marchesi, titolare dell'andare di casa marina di Ralu. Ho cominciato questo lavoro ad una certa età, perché prima ho fatto per quasi 30 anni l'insegnante. E dovendo cominciare una nuova attività, avevo poche conoscenze in mezzo. Ho avuto la fortuna di conoscere Giacomo Piri. In tutti i suoi incontri organizzati dall'Unione dei Maggiori di Salona, ho sempre attinto e trovato molto utili tutti i suoi insegnamenti, le sue indicazioni e i suoi suggerimenti. Anche questo incontro, articolato con vari esperti del suo studio, è stato molto interessante e soprattutto è utile come spunto per iniziare un percorso per approfondire determinati argomenti, vuoi per l'analisi dei costi, oppure la politica del marketing e altri. Senz'altro ci rivedremo e vedremo di anche utilizzare e di approfittare di queste conoscenze per approfondire negli anni prossimi, per migliorare il mio lavoro e per cercare di rendere sempre più renditivo e anche più utile e più attraente il lavoro che sto facendo.